Cari amici telespettatori, rieccoci per ricomentare un grandissimo successo del Milan sul Chievo per 3 a 1, doppio Egoil, buona avventura e bellissima per i Clivensi, il Milan ha fatto un'ottima partita, giocando bene, dobbiamo migliorare ancora l'aspetto difensivo, però insomma siamo sulla strada giusta per proteggerla a giocare nelle prossime partite, credo che la formazione di Gattuso abbia fatto un ottimo lavoro, non mi posso lamentare, per questo il campionato è ancora lungo e ce n'è ancora da seminare di strada per arrivare perfettamente ottimi come difesa, sappiamo benissimo che la squadra deve lavorare ancora molto, però ci sono buone prospettive per il futuro. Un saluto a tutti gli amici tifosi rossoneri e al prossimo video, ciao a tutti e un bacione a presto!